Scala Parola, scatola della Clementoni degli anni 90, descriveremo il contenuto della scatola e non le istruzioni. Si tratta di 10 giochi di parole utilizzando vari strumenti che sono dalle tessere come lo scarabeo, alle carte come paroliamo e al dado. Scatola superiore, sottovuoto in plastica bianca e la parte inferiore della scatola. Un sacchetto che contiene le tessere blu, una plancia dove in questa parte c'è le parti per il cruciverbo, una sorta di scarabeo. Dietro invece per gli anagrammi, due dei vari giochi che possono essere fatti. Libretto di istruzioni, 140 tessere. Le tessere sono indicate in fondo al tabellone e per il valore delle lettere e per il numero delle tessere. Un blocchetto per segnapunti, 4 leggi, 126 carte con le lettere dell'alfabeto, divise 63 e 63 per due colori e 6 carte categoria. Fiume e laghi, attrezzature e utensili, città, eccetera, eccetera. I giochi sono descritti all'interno delle istruzioni, c'è anche un dado. Vanno dallo scarabeo alla costituzione della parola più lunga. Tutti i giochi legati quindi all'utilizzo di lettere e dell'alfabeto. Scala parola, gioco anni 90 della Clementoni. Iscrivetevi, grazie, ciao. Iscrivetevi, grazie a tutti. Grazie a tutti.